Dopo due anni dello sviluppo dei talent, abbiamo già visto subito qualcuno che dei talent è andato poi a Sanremo giovani, è importante confrontarsi con un palco differente. Adesso non so se è il caso di fare proprio delle citazioni specifiche, però nella mia testa sto già ricordando anche persone che avevano condiviso proprio con me l'esperienza nella stessa identica edizione. A me ha fatto molto molto piacere vederli più maturi in un palco che ha un valore artistico differente.